Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. Oggi 7 dicembre, vigilia dell'Immacolata a Torre del Greco, il Covid non ferma, la devozione dei torresi per la Vergine Maria, tanti fedeli che si sono recati questa mattina nella Basilica Pontificia di Santa Croce per pregare l'Immacolata. Abbiamo raccolto le loro emozioni e i loro sentimenti. Da ieri la campagna ritorna in zona arancione, molti negozi riaperti, ma il maltempo frena lo shopping. Consueto aggiornamento dei contagi nei comuni del Vesuviano, si registrano due morti a Torre Annunziata. Non sono mancati anche in questo fine settimana i controlli della Guardia di Finanza per il rispetto delle norme anticontagio. In chiusura lo sport con la Turris battuta dal Catanzaro per 3 a 1. Questo e molto altro. Guardiamo i servizi. Il Covid non ferma la devozione dei torresi per l'Immacolata. Nonostante la pandemia e le restrizioni, malgrado il 2020, se è il primo anno in un secolo e mezzo di storia in cui non si svolgerà la processione del carro votivo, i fedeli di Torre del Greco portano nel cuore le tradizioni e i riti di una giornata di festa. Oggi la messa solenne con la benedizione ai portatori, celebrazione che, tradizionalmente, avrebbe anticipato la girata del carro nella lavata principale della Basilica di Santa Croce. Ma il carro non c'è, così come il mare di fedeli. L'effigie della Vergine Immacolata, posta su un più modesto trono, è comunque al suo posto e può essere ammirata da chi entra, in modo contingentato, in chiesa. Così i torresi non si sono lasciati scoraggiare dalle transenne e in tanti sono arrivati in Santa Croce anche solo per una preghiera alla Madonna. Il Covid può distanziare le persone, dichiara un fedele, ma non può allontanarci dalla fede. Presenti anche molti portatori, che hanno comunque ricevuto la benedizione e partecipato alla messa. Noi, l'Immacolata, la portiamo tutti i giorni nel cuore. Quali sono le sue sensazioni? Ci teneva che questa tradizione, come dire, molto sentita a Torre del Greco, venisse rispettata. Purtroppo l'emergenza Covid causa questo tipo di problema, non è possibile farlo. Anche da non credenti, io vengo spesso, tutti gli anni, a vedere l'immagine, il caro trionfale, a volte per strada, insomma. E quindi ci tenevo anche io per tradizione, per questo voto antico fatto dai torresi. Purtroppo quest'anno va male, va così. Speriamo dell'anno prossimo. Stiamo vivendo un momento difficile per la situazione del Covid. Comunque ci ha penalizzato in tante cose, in tante risorse economiche. Ci ha penalizzato anche il fatto di non poter vedere i nipoti, i figli, insomma per tante cose. Mi sono emozionata. Comunque speriamo che passi tutto il più presto. Che cosa chiede all'Immacolata in occasione della sua festa? È che è la prima cosa che si distrugge questo virus, che mette fine questa pandemia per vivere di nuovo come una volta. Credo che sia palese lo stato d'animo di ogni singolo torrese, condizionato ovviamente dai protocolli dell'emergenza sanitaria. Però quello che posso dire, e credo che ne sono straconvinto di questa cosa, che il coronavirus abbia distanziato ognuno di noi, ma sicuramente non avrà mai la forza di distanziare la fede che il torrese e i torresi provano verso l'Immacolata Concezione. Auguriamoci sicuramente in tempi futuri un anno migliore rispetto a quelli di oggi. E che dire, alla fine non ci resta che dire il solito motto. Viva Maria! Viva! Viva l'Immacolata! Quanto le costa vivere questa tradizionale festa che quest'anno non si terrà dopo tanti anni in cui la città era abituata ad accogliere l'Immacolata nelle sue strade? È un sacrificio che purtroppo siamo obbligati a fare. Per chi è un religioso come me, ovviamente il sacrificio è enorme, però è un sacrificio da fare per evitare che questo virus vada a colpire le persone più care a noi, quindi gli anziani. Cosa chiede lei all'Immacolata da suo devoto? Chiedo ovviamente che questo momento difficile, questa prova difficile per tutti noi passi in fretta e che si possa tornare presto alla normalità perché comunque la fede e anche amore e quindi abbracci e baci fanno parte appunto della fede cristiana che tutti noi professiamo. L'importanza è che ci sarà sempre la Madonna ai nostri cuori. Il giorno 7 di quest'oggi, 7 che è di lunedì, 7 dicembre 2020, ci fa ricordare quanto e quanto che vale questa festa per Torre del Greco. È un grande valore che non ci sarà il cortè, però tanta e tanta gente ci stanno prestando per andarlo a trovare con tanto tanto amore e con tanto tanto calore. Il calore grande di Torre del Greco resta sempre per Immacolata e una grande festa resta per sempre nei nostri cuori, anche con il Covid. Sono oltre 50 anni che vengo a portare il carro ed è brutto. Purtroppo è andata così. Sì, sono parecchi amici che vengono da fuori, i primissimi fratelli che venivano da fuori e non sono potuti venire. Altri amici da Livorno, dalla Spezia e non sono potuti venire perché l'epidemia ci ha obbligati a fare una determinata festa. Comunque va bene lo stesso perché chi è portatore davvero, come tanti di noi, la porta nel cuore tutti i giorni, tutti i giorni. Questo è di mio figlio il dottore che sta a Livorno, vedi? Il medico che sta a Livorno ha detto papà portami pure tu la fascia in chiesa per essere presente. Quindi immagini un po' come la sensazione che vuole sono. Comunque va bene così, vuol dire che dobbiamo farla in questo modo questa. È la prima volta e c'è sempre una prima volta. Mi auguro che il Signore ci aiuti a superare questa situazione. Aiuto a tutti gli ammalati e a tutti quanti che gli stanno vicino, che ho parecchi amici che in questo momento soffrono e io sto cedendo a San Vincenzo di farli guarire. Quindi un po' con San Vincenzo, un po' con il mal dell'Immacolata, con la mano del Signore cerchiamo di superare questo periodo. Speriamo il bene e il Signore ci benedica. A voi che fate questi lavori è tutta la nostra città. Grazie. Campania in zona arancione. La decisione è stata presa venerdì dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dopo gli ultimi dati pervenuti alla cabina di regia per il controllo del contagio, ed è entrata in vigore ieri. Cambia quindi la zona di criticità e di conseguenza si può assistere alle prime riaperture e agli esercizi frenati dalla zona rossa. Restano chiusi i bar e i ristoranti, per i quali è consentito solo il servizio d'asporto e la consegna a domicilio, ma riaprono i negozi non essenziali, in particolare quelli di abbigliamento. Scompare anche la limitazione alla mobilità cittadina. Si potrà circolare liberamente all'interno del proprio comune fino alle 22 di sera, orario in cui in tutta Italia scatta il coprifuoco. Tuttavia, in zona arancione è previsto ancora il divieto dei spostamenti fra comuni diversi, salvo comprovate esigenze. I più speranzosi a Napoli sono titolari e dipendenti ai negozi che hanno potuto rialzare le saracinesche. Vetrine rimesse a lucido, porte aperte, ma anche regole affisse alla porta per mascherine e distanziamento per negozi di abbigliamento, scarpe e gioiellerie. Apertura dominicale prenatalizia, ma pesantemente condizionata al nubifraggio mattutino e successivamente dalla pioggia che ha lasciato solo pochi spiragli. poca la gente è in strada per lo shopping. Si riparte con la speranza e con l'avvicinarsi del Natale ed il miglioramento della situazione sanitaria, le vendite possano registrare un'impennata. Prime indiscrezioni, infatti, fanno sperare in un ulteriore alleggerimento delle misure già per la prossima settimana, quando la Campania dovrebbe già tornare in zona gialla. Resta stabile la curva del contagio nel Vesuviano, dove, dalla giornata di ieri, così come tutto il territorio regionale, vige la zona arancione. A Torre del Greco, nel fine settimana si sono registrate 45 guarigioni al Covid-19, attestati in oltre 55 nuovi positivi al virus, tutti posti in isolamento domiciliare. Registrato un decesso nella giornata di sabato. Si tratta di un soggetto classe 1924. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagi dal nuovo coronavirus nella città del Corallo. Sono 734 gli attualmente positivi, di cui 26 sotto regime ospedaliero, 1.392 guariti e 46 decessi. 52 nuovi casi di contagio a Castellammare di Stabbia, registrati durante il weekend, di cui 6 presentano sintomi levi della malattia. Tra i nuovi positivi, 6 di età compresa tra i 5 e i 17 anni. 12, invece, gli stabiesi guariti. In totale sono 1.527 e i cittadini tuttora positivi. I dati comunicati dall'ASLA, fa sapere il sindaco della città di Ercolano e Ciro Buonaiuto, fanno registrare 19 nuovi con cittadini positivi e 21 nuovi guariti. Su un totale di 8.840 tamponi effettuati sui cittadini dal 1 ottobre, i positivi attualmente sono 687, due in meno rispetto ai dati di venerdì, e il numero di guariti sale al 1.019. Dati stabili anche nel comune di Dora Annunziata, che fa registrare nuovi 50 casi e 37 guariti nelle ultime 48 ore. Purtroppo siamo costretti a piangere altri due nostri concittadini deceduti a causa del Covid, afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Uno di questi è l'ex dipendente comunale Andrea Merluzzo, andato in pensione da pochissimo tempo. Nell'ultima settimana a San Giorgio a Cremano sono stati effettuati 571 tamponi, di cui solo 47 positivi, con una media di test effettuati dell'8,23%. Ad annunciarlo è il primo cittadino Giorgio Zinno, nel corso della diretta Facebook di venerdì. Il sindaco, a proposito del calo del numero totale dei tamponi, aggiunge, diminuiscono i tamponi perché meno persone avvertono i sintomi, dati nel complesso di miglioramento rispetto alle scorse settimane. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha rafforzato anche in questa settimana il dispositivo dei controlli volti a verificare il rispetto delle misure anticontaggio. In totale, tra venerdì e domenica scorsi, sono state controllate, tra il capoluogo e la provincia, 709 persone e 133 attività commerciali. 24 restanzioni complessive, comprese quelle in situazioni illecite, tipicamente interesse delle fiamme gialle, traspaccio e uso personale di sostanze stupefacenti, contrabbando di sigarette, gioco d'azzardo. Più in dettaglio, i Baschi Verdi e il gruppo Pronto Impiego di Napoli, nel centro storico quartiere San Lorenzo, hanno sanzionato e segnalato all'autorità di pubblica sicurezza per uso personale di sostanze stupefacenti tre giovani, due italiani e uno francese, trovati in possesso di 4 grammi di marijuana e 1,6 grammi di hashish. Il secondo lungo operativo metropolitano nel rione San Tommaso ha sequestrato all'interno di una sala giochi abusiva tre videoslot e 120 euro proventi illeciti delle giocate. Denunciato e sanzionato, il titolare per omessa tenuta è la tabella dei giochi proibiti e anche per violazione alla normativa anti-covid-19. In provincia, la compagnia di Ottaviano ha individuato un'associazione sportiva dilettantistica aperta al pubblico nonostante i divieti. Sorprese all'interno due soggetti, uno di essi recidivo, che giocavano a bilardo, che hanno tentato di giustificarsi, fingendo di allenarsi in previsione e la partecipazione, ad un appuntamento di carattere nazionale. Sequestrate anche tre slot machines accese e in funzione, ma non collegate telematicamente alla rete dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Disposta la chiusura dell'associazione per 5 giorni. Il gruppo di Fratta Maggione, nel corso dei distinti interventi, ha denunciato all'autorità giudiziaria un 25enne, sequestrando a Casoria, durante un controllo su strada, 60 kg di sigarette di contrabbando, nascosta all'interno dei portai bagagli. Sanzionato assieme alla sorella, che lo accompagnava in auto anche per aver compiuto uno spostamento non giustificato. Cade la Turris a Catanzaro. Dopo 582 giorni si interrompe l'imbattibilità esterna dei corallini, che perdono 3 a 1 al Ceravolo e si vedono scavalcare in classifica proprio dalla compagine calabrese. La Turris torna in campo dopo oltre una settimana dall'impresa di Palermo e dopo il turno di riposo di domenica scorsa. E si presenta in Calabria senza lungo in attacco, ma sono i giallorussi a fare la partita ed avere le migliori occasioni, soprattutto con Garufo, che colpisce il palo. I corallini in contropiede sferano il gol con Pandolfi, ma a metà del primo tempo è esempio a trovare il Guiz vincente e a portare in vantaggio gli uomini di Fabiano. Ma lo stesso esempio si fa poi espedere per doppia munizione, la seconda per una discutibile perdita di tempo. I padroni di casa con l'uomo in più si gettino in avanti alla ricerca del pareggio, che trovano lo scadere con Risolo. Il secondo tempo è un assedio del Catanzaro con la Turris raccolta a difendere il pareggio fino alla mezz'ora quando un'uscita incerta di Abagnale regala il pallone agli avversari che passano in vantaggio con l'ex evacuo. Al novantesimo Pandolfi è la clamorosa occasione del pareggio a tu per tu con Branduani, ma spedisce fuori e nel recupero, Curiale, chiude definitivamente i conti siglando il terzo gol con un colpo di tacco. Nel prossimo turno i corallini torneranno a giocare a Liguori, dove ospiteranno il terramo, per provare a riscattare la prima sconfitta esterna stagionale. E con questa notizia si chiude anche questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete inviare info e segnalazioni alla mail redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340-6561-484. Domani, in occasione della Festa dell'Immacolata, TV City propone un documentario sui canali social e sul canale 113 del Digitale Terrestre. Restate aggiornati seguendo la nostra programmazione.